Vista dall'alto la solfatara appare una landa innocua e desolata. Un flebile fumo si alza da una delle bocche che caratterizzano questo cratere, uno dei tanti del super vulcano dei Campi Flegrei. In un giorno particolarmente caldo, gli sbuffi di vapore sono radi e quasi impercettibili. Il professor Giuseppe Luongo si arrampica con noi lungo la strada che costeggia l'area dell'antico cratere e osserva uno scenario che conosce a memoria. Vulcanologo di fama mondiale, ex direttore dell'Osservatorio Vesoviano, accademico e autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche, e chiamato costantemente a interpretare i segni che vengono dal sottosuolo. L'inalzamento della crosta è 15 cm oltre quello a cui si arrivò nell'83-84. Come si fa a immaginare come potrà reagire la roccia? Fino a che punto potrà tenere? Si può prevedere, si può controllare? No, diciamo che, visto che avvengono i terremoti, significa che si raggiunge il livello di sopportazione delle rocce e queste si fratturano. Ma la frattura che avviene in profondità è molto piccola. E quindi non sono fratture che raggiungono la superficie, quindi non sono fratture che indicano, diciamo, pericolosità. Ora, la cosa importante è che la sismicità forte non sia molto superficiale, in essenza che non sia proprio una spinta verso l'alto, che sta interessando proprio le centinaia di metri di superficie. No, qua siamo nella condizione che sono almeno 3 o 4 chilometri nei quali avvengono i terremoti. Quindi in questa roccia sottoposta a sforzo, quindi a pressione, si accumula l'energia e di tanto in tanto le rocce si fratturano. Queste rocce sono molto calde, per cui piuttosto che fratturarsi tendono a modellarsi lentamente. Per cui noi abbiamo un sollevamento con poche fratture. Professore, l'epicentro è tra la solfatara e l'accademia aeronautica. Molti dicono, finché gli avieri stanno lì, dobbiamo stare tranquilli. La spinta maggiore in quella zona, in questa zona, è quindi lì che si generano più fratture. E quindi è lì anche che avviene il maggiore sollevamento. Quindi, se l'accademia resta lì, significa che il livello di pericolo è contenuto. Professore, ma l'ipotesi che si spacchi questa roccia, che si va via via deformando e crescendo, che cosa potrebbe comportare un'esplosione freatica, lei la immagina come scenario? Allora, alcuni colleghi ritengono che sia possibile un'eruzione freatica. Un'eruzione freatica, in realtà, è il passaggio dell'acqua dalla fase liquida a una fase di vapore, di gas. Quindi c'è un aumento improvviso di volume. Questo produce un'esplosione. Perché questo possa accadere? Il magma non deve essere lontano dall'acqua. Quindi, se il magma resta in profondità, non possiamo neanche avere eruzioni freatiche significative. Professore, in conclusione, l'83-84 fu un biennio nel quale molti desidero di lasciare queste zone. La crisi, tra virgolette, che dal 2012 arriva in giorni d'oggi, lei la può paragonare a quella, somiglia, è un'evoluzione di quella? La differenza c'è. Oggi c'è meno energia, diciamo, meno potenza, cioè energia che si libera in un tempo breve, che nel passato. Aspettiamo gli eventi, non sappiamo quanta energia ancora è disponibile. Lei però vive a Pozzuoli. Ma, certamente. Quindi ritengo che questa fase è una fase solo di attenzione. Grazie. Grazie.